e te risposi che ti chiesti? eh se te ne sono poche sordi però non è che da tenere i sordi mi metto solo la benzina un po' parti e te fermi alla parte non mi fanno niente anzi è che non mi metto non mi faccio fidanzare perché non dico niente e tutto mi faccio corretto ma devo fare quello che mi devo fare mi metto una persona presso poi che faccio? e perché non era come ora ecco? e insomma piano piano mi piace quella cosa di quello e te l'ho messo i miei mi piace pure mi piace ma tu tempo ma tu tutto se voleva camminare e se poi se ne voleva io poteva passeggiare pure questo eh e tanto non me ne fregava niente ero una passeggera io e era quella come te fai io sola che tutti quanti quello Montelotto era sempre come un uomo a cantare cosa sempre contenta sempre contenta contenta nella manna buona e me ne sai da ballare e se sei da casa visto non c'era è venuto un ritorito e tu sapeva che si ballava e allora ecco c'era è sal facciato tutto eh tutti aspettavano e diciamo io invece attento non mi toccava eh e diceva beh mi ha detto che veniva a Montelotto io che stai aspettando finito me ne sai da ballare perché oggi era libera siamo sempre lavorando sempre fatichando quando sentemmo io il ganetto scappemmo a scarto c'è Marrocco perché se ne facciano tanti mucchi e se ne facciano mucchi così allora chiamavano tutta la gente che ci siamo tutti quanti con la sera e ci leviamo i scartucci e poi le due tre passa alla trebbia dopo le due assolate le due non ti pensi per me non è tenata più lenta quando fatti che ci voleva e allora io mi ha fatto scarto c'è allora mi ha detto mamma Angelo non riusci che la dico solita mi ha girato Angelo e mi ha detto vedete che ne avete fatto questa questa perché io non ci vai più insieme con questa e si era fidanzata con pure Issa si sa com'è e che piace pure veniva pure straccomi che tutte le sere c'era il giovane in giro gli schianti ero primo doveva mantenere tutta la famiglia doveva mantenere mi ha detto vedete che è nata questa cosa e questa io non ci vai più ma poi non eravamo messi d'accordo io e Angelo e allora cosa che facciamo? scemo insieme e renderemo insieme se rendi prima tu da sette alla sette e mi aspetti che rendo io se rende prima io lo stesso quando che sappiamo sopra nemmo a due mesi sappiamo ognuno si va a mettere giù le tose e ne sentino che siamo rientrati tutti due ed eccolo come si è venuta la faccina perché bene o male non ti puoi dire sta tanto perché gli schianti sono io a lavorare la mattina non mi ero abituata a fare la pizza per l'andorco quando ero io lo facciamo a mangiare e la sera ci rimanghi solo pure tu ecco aiutando a mangiare adesso non mi segui adesso non mi pare che sarebbe caldito ma poi non calda più non era non era è stato un bel straccio è stato prima a prenderli segni per i fratelli a lavorare a porco San Pierro Gli ero portato con un olio colvato. Ogni tanto vi vorrebbe l'Ikea. Un sacco di eccoci perché era rivenuto da prigioniero. Era già... Non era più tempo di comattene tanto, capito? Mi diceva che ho ancora voglia per questo sistema. Mamma diceva che non ti manca pezzo se si è tagliuito, manca lenza per abburritare questo video. Mi sa chiacchieravano. Ho detto che qui hai fatto quella sfuriata alcocivica che tu quando vai... Dico no. Ancora io. Sto vedevo sicuro. E io ho fatto pure le marciate. Così... Non teniamo tanto tempo, non teniamo tanta libertà perché non è che come fa un uomo adesso 15-16 anni e tocca a casa, tocca... Se ti fai una cosa una griglia e si diventa la goccia e ti cura te ne... Perché non te ne fa fidare mai la gente. E ho detto che io ho fatto un uomo che ti deve dire che non porti quelle cominci le mie armi. Lo sapeva io questo, mica non lo sapeva. Cinque anni e quando poi sono volati, non sapete ne... E... E... La orella, gli campi, ha aggiornato agli armi... E... E... La stanchezza la sentiamo mai però. Emo sempre cantena, sempre contenta, sempre... Bellissima proprio, è venuta proprio bella questa. Mi piace tanto, quando stai anche a telefonare me la guardo sempre questa foto. E... I momenti belli sono i primi tempi quando più uno si è sposato, ti si... E poi quando, come si dice, venghi figli una cosa e narra... Dio... Amor di Dio, come si dice, non c'è sempre stato. E senza litigare, senza... Un certo punto, poi quando cominci a essere stanco tu, stanco io, e quegli figli di Indica che... Non mi ha mai toccato, dice, come fa certi gemeni, no ritichino, qui tirano cose, qui ne tirano... Non è mai successo. La famiglia... Portata davanti... Allegramente... E sani. Quella è la base... Più principale. Non abbiamo fatto mancare niente. Abbiamo lavorato, però teniamo tutto. Ah, troppo sono contenta. Sono contenta sempre, perché... Mi dice, ma i figli di te sono sempre uguali, sono sempre tutte... E che... Che... Cosa... Vale più la realtà gli uomini che l'altro. E ti risposi, che dici a Cristi? Eh, se ti resti pochi sordi... Però non è che hai da tenere i sordi, mi metti solo la benzina, un po' parti e ti fermi a una parte, non puoi mancare niente, cominci a rire. Mi dice, se ti... Se ti risposi tu... Ti faccio un canestro. Io mi faccio questo... Ciccino Piscione, qui... Si chiamava Domenico. E ci sottiso. Per il canestro dove mi faccio ristirmi a te intorno a una persona che è stata tanto una persona amata quella che mi sono figliata. Se non gli fa campare, non gli fa campare. Ma... Ormai la campagna nostra è finita. Grazie a te, Lucita.